Ed è partita questa finale Ed è Ronzani che si porta in testa Atleta dell'alte cercato Ronzani e Saroni ma subito si mescolano le carte Ed è Corsini, ora Rossetto E allora, ora Rossetto E siamo nel giro della doppia Eliminazione Andiamo a vedere la coda 804 e 150 eliminate Allora in testa abbiamo Elena Rossetto Nella giornata patinaggio Borsa di Trebasire che è seguita dall'atleta del Mensana La 139 e 11 Poi i marmetti E siamo ancora nella doppia eliminazione 827 e 72 Le atlete eliminate nel giro precedente 827 e 72 Fermarsi Attenzione Attenzione c'è stata una caduta roca ambolesca Ma si rialzano tutte Ma si rialzano tutte Pranne due 69 Eliminata per taglio di percorso 69 Eliminata per taglio di percorso Sono rialzate tutte Allora andiamo qua alla testa della gara Con la numero 805 Tomasini Davanti a tutti Vediamo se le atlete coinvolte nella truta Almeno parte di queste riescono a rientrare nel gruppo Direi di sì Numero 88 Eliminata Si è portata in testa l'atleta del Siena Campana Eliminazione in corso Marletti Rossetto 59 Eliminata per taglio di percorso 59 Eliminata 59 Eliminata per taglio percorso 69 69 69 69 69 E intanto guardiamo la testa E' molto complicato Come sta in questa gara Sai mai se devi guardare la testa o la coda Campana Eliminazione in corsa 838 838 Ammonita E' ora rossetto in testa 77 Eliminata 77 Eliminata E' ora ritorniamo alla testa della corsa Quando siamo al passaggio di meno 36 Chiari Pierici in testa 809 Eliminata Ed è Ronzani in testa Ed è Ronzani in testa All'esterno Marletti Campana E' ora ritorniamo alla testa della corsa Eliminazione in corso 60 Fermarsi Ed eccole al passaggio di meno 32 Non siamo ancora a metà gara E' ora Marletti Rossetto Nelle prime due posizioni Poi l'atleta della mensana A numero 139 8.05 Eliminata 8.05 Eliminata 140 Ammonizione 140 Ammonizione Marletti Rossetto Meucci Saronni Queste è nelle prime posizioni Ma ora all'esterno Si rimescolano le carte E siamo all'eliminazione 2-0-8 Fermarsi Eliminata 2-0-8 Eliminata Rilancia l'azione Marletti Con Rossetto Poi Poi Meucci 70 Eliminata Eliminata Ancora in testa L'atleta di Siena A passaggio Siamo a meno 26 Quindi siamo a poco più di metà gara Ed eccole ora l'eliminazione in corso 817 817 Eliminata Per scorrettezza 817 Eliminata Per scorrettezza Tedeschi Fermarsi Eliminata Per scorrettezza E allora vediamo nel passaggio di meno 23 8-4-2 8-4-2 Eliminata Centro 28 Centro 28 8-2-4 8-2-4 Eliminata E allora Rossetto ora in testa al gruppo Seguita dalla 816 816 Corsini Rossetto Corsini Meucci Saroni Marletti Al passaggio di meno 19 Elena Rossetto in testa Poi tedeschi 6-4 Eliminata Ora l'atleta dell'azzurra Patinaggio Corsa in testa Ora è Meucci Che si porta in testa Seguita da Marletti Poi Rossetto Poi Corsini Poi Saroni Ora all'esterno l'atleta dello scalterino Attenzione 815 Eliminata 815 Eliminata Monzani Eccone a meno 16 Campana Eliminazione In corso Marletti Corsini Rossetto Meucci Numero 7-9-8 Eliminata Ora quando passeranno Saranno alla campana Di meno 14 Ricordo che Stiamo assegnando Il titolo italiano Per la categoria Junior Femmine 10.000 metri Eliminazione Ronzani Ora in testa Ora è l'atleta di Savona 8-5-2 Fermarsi 8-5-2 Eliminata Al passaggio Canzone Reno 12 Marletti In testa Seguita da Meucci Poi Corsini Ora è Rossetto Che si porta In testa A condurre Il gruppo 8-0-3 Eliminata E sono 2-4-6-8-9 Sono rimaste In 9 E i giri Sono 10 Al passaggio Campana Di meno 10 Elimination Eliminazione L'eliminazione In fiorso Alessandra Saremo Saremo A meno 8 E ora Marletti In testa Marletti Saroti I tuoi All'esterno Consigli Qua è Rossetto 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 8-2-3 Eliminata E sono rimaste In 7 Bravissima Rosseco, Orsini, Marletti, Becucci. Ora è Marletti, Becucci, Ronzani, Rossetto. Eliminazione. 816, eliminata. Ed è Corsini che viene eliminata. E allora Saroni, Rossetto, Marletti al passaggio di meno 4. Marletti, Becucci, Rossetto, Saronno, Saronni. Ronzani, Valagussa. Queste gli attoretti rimasti in gara. Al passaggio di meno 3. 90, eliminata. Ora sono sempre eliminazioni. Sempre eliminazioni. Entriamo nel benissimo della gara. Contagini a meno 2. Marletti, Rossetto, Saronni, Ronzani. 139, eliminata. Marletti, Saronni, Rossetto. Ed è Saronni che lancia. 139, fermarsi. Saronni, Rossetto, Marletti. Saronni, Saronni, è lei che va a vincere. Saronni, Rossetto, Marletti. Questo è il proprio... Saronni, Rossetto, Marletti. Saronni, Rossetto, Marletti.